Organizzare un evento che andrà in scena nei prossimi mesi è complicato ed evitare assembramenti è il comportamento necessario per prevenire il coronavirus. Così sono tante le manifestazioni che nell'anno che ha stravolto il mondo non si potranno realizzare. Tra queste anche gli appuntamenti tradizionali organizzati dagli alpini. A livello nazionale come noto per ora la donata di Rimini è stata spostata a ottobre in attesa di capire come evolverà la situazione. Mentre sono già stati annullati tutti gli eventi fino a fine luglio compresi i pellegrinaggi all'Ortigara e alla Adamello annullato anche il raduno al rifugio Contrin. Niente festa granda nel 2020 nel Piacentino. Il presidente della sezione ANA Roberto Lupi ha comunicato a tutti gli iscritti che l'evento in programma a bettola a settembre è stato rinviato al prossimo anno così come il tradizionale raduno di giugno a Cappannette di Pei. Salta anche il primo campo scuola per ragazzi delle medie in programma a luglio a Ferriere. La tre giorni aveva registrato già il tutto esaurito. Chi aveva già versato l'anticipo verrà rimborsato. Il raduno del secondo raggruppamento in programma a ottobre a Lecco è slittato al prossimo anno e quello di Lodi previsto per il 2021 si svolgerà nel 2022.